Buon pomeriggio a tutti ragazzi, eccoci qui, benvenuti come ogni martedì al consueto appuntamento trading long e short sulle azioni italiane e americane, PIT Trading, in mia compagnia io sono Riccardo Zago, c'è Pietro Origlia, buon pomeriggio Pietro come stai? Ciao Riccardo, buon pomeriggio a tutti, buon trading, tutto bene, bentornato perché due settimane ci hai lasciato in ottima compagnia con il buon Vincenzo. Sì, infatti in realtà i webinar li ho guardati e insomma eri in buona compagnia, tra l'altro ho visto anche che avete aggiornato le performance con un ottimo anno per il portafoglio Italia più 21,06% mentre per Wall Street abbiamo chiuso un più 31,7% quindi nelle ottime performance complimenti Pietro e si riparte quindi con gennaio, si riparte con gennaio, so che hai già chiuso delle posizioni. Siamo riprendi bene, solamente qualche giorno fa abbiamo chiuso Iveco più 30%. Allora abbiamo già delle domande su Apple dove Andrea dice avrei una domanda su Apple, mi piacerebbe entrare long dati ribassiti degli ultimi giorni in un'ottica di lungo periodo anche se noi qui ricordo che facciamo analisi di breve medio termine però comunque lo andiamo a vedere come dice Andrea potrà il declino delle vendite di iPhone in Cina incidere in negativo sul titolo e se avete che livello per un possibile ingresso. Anche Antonio chiede se compriamo Marathon, lo andiamo a vedere, intanto la piattaforma si è andata, andiamo a prendere il template per il comparto azionario e direi che prima di passare alle azioni single come al solito facciamo un recap di quelli che sono i principali indici azionari partendo come sempre da Standard & Poor's 500, eccoci qui. Allora Standard & Poor's 500 che dopo aver toccato in massimilare a 4800 è iniziato una piccola fase di ribasso ma come potete notare non stiamo assistendo a nessun cambio di tendenza almeno per il momento quindi il trend è ancora ben impostato al rialzo come sappiamo nei primi mesi dell'anno o comunque il primo mese dell'anno è molto importante quello di gennaio per capire anche come potrà proseguire l'intero l'intero anno i mesi più due mesi negativi potrebbero essere quelli di febbraio e di marzo però è il prezzo sempre che ci darà o almeno le conferme. In questo momento stiamo testando una zona supportiva importante in area 4750, 4760 per S&P 500 ma qui ragazzi fin quando rimaniamo al di sopra di 4700 punti secondo me parlare di short è un po' pericoloso per operazioni multi day invece in intra day operazioni in brevissimo termine lì si può fare quello che si vuole sia che il trend sia rialzista sia che il trend sia ribassista. Detto ciò la mia view rimane rialzista sull'indice standard & Poor's 500 ma a partire dal nuovo anno visto che l'anno scorso ci ha dato grandi soddisfazioni direi di fare un po' di attenzione perché un giro ribassista può essere dietro l'angolo il prezzo al momento non ci dà ancora nessun segnale come detto 4700 primo supporto subito dopo troviamo 4600 qual è la tua view sugli indici Pietro? Beh come dicevi tu credo che il trend rimane bello impostato a rialzo nelle ultime 11 settimane 10 sono state positive abbiamo ritoccato i massimi di periodo credo che il se non è oggi è domani ma il test dei massimi di sempre andremo a farlo nelle prossime nelle prossime settimane e discese fin verso aria e 4700 punti non andrebbero a modificare che poi sono degli importanti livelli supportivi non andrebbero a modificare questa view e lì abbiamo anche la super trend anzi rappresenterebbero delle nuove occasioni di acquisto una nuova occasione per rientrare sul mercato americano un mercato americano che ricordiamocelo e guarda con massima attenzione alle primestrali oggi buoni numeri da Goldman Sachs delude leggermente Morgan Stanley e però è un mercato che guarda sicuramente a queste a questi dati e sicuramente potranno avere poi un impatto sui sui vari indici quindi S&P Nasdaq Dow Jones assolutamente sì e andiamo andiamo proprio a vedere anche il andiamo proprio a vedere il Nasdaq allora US Tech andiamo a vedere qualche livello interessante anche su US Tech vediamo se lo trovo eccoci qui US Tech che continua a mantenere tra l'altro se andiamo anche su un time frame orario ci accorgiamo che proprio in concomitanza con il dato delle 14.30 c'è stato c'è stato un giro un giro rialzista eccoci qui anche se la volatilità almeno per il momento è ancora bassa vedremo come si comporterà in apertura quindi alle ore 15.30 però fin quando non rompiamo il minimo qui in area 16.650 16.600 attenzione con gli short perché è vero che è salita tanto ma non per questo allora deve per forza scendere infatti qui c'è stato un non un sell off ma delle prese di beneficio però vedete che hanno subito riacquistato quindi quello che voglio dire è anche andando ad analizzare il Nasdaq se questo minimo viene rotto al ribasso perché qui sono comunque entrati in molti volumi se qui ci sono stati molti scambi quindi zona supportiva chiave se questa zona viene rotta al ribasso siamo comunque di fronte a massimi e minimi via via decrescenti allora da lì magari potremmo anche valutare delle operazioni short di breve termine ma fin quando questa zona non viene rotta non possiamo a mio avviso fare niente anzi possiamo fare quello che vogliamo ma quello che voglio dire è che sarebbe un po' troppo rischioso detto ciò però anche se rompiamo quel minimo appena visto abbiamo spazio poi sì fino al prossimo supporto che è in area 16.004 16.002 ma attenzione perché in ottica multiday anche qui fin quando rimaniamo sopra questa zona si parla solamente di piccoli ritracciamenti per inizia piccoli o comunque di storni sì ma all'interno di quello che è il trend attuale cioè il trend rialzista con la rottura di questa zona che ho evidenziato allora le cose cambierebbero e da lì allora si potrebbero valutare anche delle nuove operazioni multiday short sul nasdaq 100 allora prima di passare i singoli titoli andiamo un attimo sul forecaster per vedere anche a livello stagionale a livello stagionale aspetta che devo fare l'accesso a livello stagionale come siamo messi quindi mannaggia allora forecaster perché diciamo che i primi mesi sono un po' da attenzionare allora andiamo a prenderlo eccoci qui andiamo a vedere più che altro l'S&P 500 allora entriamo facciamo l'accesso allora US 500 S&P 500 stagionalità quindi andiamo a vedere la stagionalità di standard and poor e ci accorgiamo che inizia una piccola fase ribassista poi un'ulteriore fase rialzista il ribasso più pronunciato lo lo troviamo poi dalla metà del mese di febbraio fino a la metà del mese di marzo quindi diciamo che marzo è il mese diciamo che marzo potrebbe essere o comunque da metà febbraio a metà marzo potrebbero esserci delle occasioni ribassiste ma stiamo sempre parlando di statistica perché se il prezzo non lo conferma non possiamo fare affittamento su questo però iniziamo a tenere sotto osservazione insomma le resistenze i livelli gli eccessi di volatilità proprio perché la statistica insomma mi sembra abbastanza chiara il mese di febbraio negli ultimi anni non è stato uno dei migliori mesi dell'anno marzo come potete vedere qui negli ultimi cinque anni lo è stato perché perché a partire dalla metà del mese di marzo abbiamo sempre assistito a dei rialzi estremamente rilevanti e quindi dobbiamo tra questo periodo e la metà del mese di marzo individuare anche dei punti di swing a ribasso e poi la metà marzo valuteremo anche dei log quindi a livello statistico diciamo che questa fase che va da metà febbraio a metà marzo è più ribassista che rialzista ecco se andiamo a usare anche la funzione detrended ci accorgiamo che vedete coincide coincide anche con la versione normale quindi prima piccola fase ribassista sempre a livello medio statistico parliamo non stiamo facendo una precisione perché siamo sicuri che questo accadrà ma diciamo che la probabilità è dalla nostra parte vedremo 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 questa la stagionalità di standard mp 500 quindi dopo aver visto i due indici principali aver visto anche la stagionalità direi che possiamo iniziare subito con insomma abbiamo un bel po di titoli da vedere quest'oggi abbiamo la prima domanda di andrea e quindi andiamo a rispondere ad andrea con la domanda su apple apple che nelle ultime sedute insomma ha sofferto un pochettino pochettino insomma è scesa è sceso è un titolo che è anche sceso abbastanza e si sta avvicinando a delle zone supportive 180 182 sono sicuramente dei supporti chiave la rottura di questa zona aprirebbe invece la strada a livelli più interessanti magari in area 170 165 170 io non ho ancora posizioni su questo titolo qual è la tua view pietro anche io stavo guardando infatti riccardo noi abbiamo se ti ricordi l'abbiamo avuto in portafoglio il titolo apple quasi venduto sui massimi se non sui massimi ma proprio a pochi centesimi dei massimi e credo che l'area dei 180 sia un'importante aria supportiva perché lì sui 180 abbiamo anche la media mobile a 200 giorni quindi è fondamentale quella la tenuta di quei livelli poi abbiamo visto il recupero che si è innescato il rimbalzo dal 5 gennaio appunto dei 180 dollari e ora però servirebbe un la prova del 9 sarebbe andare a superare l'area dei 187 50 100 188 sopra questi livelli ci sarebbe la chiusura del cap down che abbiamo lasciato aperto nel mese di dicembre e poi ulteriori target rialzisti però nutro dubbi che il titolo possa andare a fare questo break questo a questa il superamento di queste resistenze anzi propendo per l'idea che il titolo vada nuovamente a ritestarmi la soglia dei 180 dollari lì ma la mancata tenuta di quei livelli ci potrebbe riportare sui 170 e a seguire sui minimi che abbiamo visto minimi di periodo che abbiamo visto il 25 d'ottobre l'area dei 166 quindi poi abbiamo letto alcune alcune news arrivate dalla società come il il taglio anche per quanto riguarda i prezzi e dei degli iphone in cina quindi ma anche qui qualche per cercare appunto di recuperare cose di mercato comunque ricordiamoci poi nelle settimane passate quel downgrade arrivato su apple e quindi la situazione non mi sembra al momento abbastanza positiva per poter entrare appunto sul titolo cerchiamo di andare eventualmente a monitorare supporti interessanti dove poi in caso di tenuto si potrebbero appunto sviluppare dei segnali di inversione però andare ora sul titolo la vedo molto molto rischiosa io sono d'accordo con te pietro e proprio ad analizzare anche il trend di breve termine ci accorgiamo che nell'ultima parte dell'anno abbiamo si assistito a un rialzo incredibile che ha portato i prezzi vicino alla soglia di 200 dollari per azione però che è successo da qui lasciamo perdere le news lasciamo perdere tutto guardiamo cosa ha fatto il prezzo poi le news le aggiungiamo per capire se coincide il tutto ma è chiaro qui avevamo di fronte un trend rialzista cosa è successo guardate fermi tutti allora vedete giornata tra il 14 e il 15 dicembre picco di volumi e allora noi che cosa facciamo lo andiamo ad evidenziare benissimo come abbiamo sempre detto durante questo webinar quando ci sono dei picchi di volume dobbiamo assolutamente prestare attenzione che cosa è successo dopo questo picco di volume che sono iniziati gli scarichi scarichi prese di beneficio apertura di nuove posizioni short quello che volete ma il prezzo parla chiaro picco di volumi sui massimi su una resistenza importante e da qui inizia il cambio di trend almeno per il momento di brevissimo termine infatti noi che abbiamo assistito a un chiarissimo impulso in un ritracciamento non c'è stata nessun tipo di forza rialzista a mio avviso qui e stiamo tornando a scendere ora ha senso vendere su questi minimi no chiaramente però è una zona che dobbiamo monitorare non tanto per comprare perché secondo me comprare da qui è un rischio troppo alto compreremo solo come ha detto pietro poi con le conferme ma io qui venderei in realtà anche se oggi mi fa un piccolo rimbalzo io valuterei lo short perché secondo me questo supporto verrà rotto e lo rivedremo in area 170 poi sempre attenzione alle news perché anche in base a quello insomma capì può cambiare tutto detto ciò ricordo che la fed la fed si esprimerà il 31 di gennaio dove noi faremo anche trading in diretta però è quella quella sarà ecco una data importante dove bisognerà anche gestire al meglio le posizioni magari in essere però la mia view ora sul titolo apple è più ribassista che rialzista almeno a livello grafico non so se sei d'accordo che non ho confermo anche perché poi stiamo vedendo che la pre apertura il pre open e in ribasso di oltre 2 per cento quindi è possibile appunto che come dicevamo si possa ritornare a ritestare quegli importanti supporti posti sulla soglia dei 180 180 e 50 e come di come tu sottolineavi credo che i volumi dettano il trend al titolo perché i volumi che noi abbiamo visto il 15 dicembre sono volumi veramente importanti ampiamente superiore alla media genera mensile e nella fase discendente le candele le giornate decisamente negative sono tutte accompagnati da volumi anche in questo caso superiori alla media genera mensile il rimbalzo che si è innescato quello di cui parlavamo partito appunto del 180 il 5 di gennaio arriva con volumi che comunque non sono alti o perlomeno non sono superiori a quelli visti durante la discesa e quindi massima massima attenzione anche perché poi anche se la candela dell'11 di gennaio è un hammer è un hammer però la possiamo anche leggere come un ops perché il titolo apre in gap up e chiude sotto i massimi della seduta precedente quindi quasi anche una sorta di ops ribassista e quindi credo che da lì si possa nuovamente ritornare a vedere la soglia dei 180 poi lì si giocherà il trend sul titolo perché come dicevi tu se non dovesse se dovesse essere rotti quei livelli sicuramente le operazioni short potrebbero essere quelle preferibili in questo momento sul titolo apple ed eventualmente poi rivalutare il titolo una volta che raggiunge alcune aree importanti di supporti nello specifico venerdì 15 dicembre sono state scambiate 62 milioni di azioni quindi un valore che non si vedeva da non ve lo dico subito da quando da eccolo qui insomma da febbraio 2023 quindi un picco che non poteva passare inosservato scusa ho sbagliato 23 quindi dopo aver visto il titolo apple vado a rispondere subito alla seconda domanda e poi andiamo a fare una piccola una breve carrellata di titoli perché mi chiedete se bisogna comprare maraton maraton digital ragazzi la mia maraton che è il mio trade dell'anno ovviamente abbiamo fatto una challenge abbiamo fatto una sfida con tutti i trader di investire punto biz proprio ieri e il mio titolo dell'anno dove puntato il mio bel miliardo di euro tra l'altro qui se volete partecipare è gratuito basta iscriversi a fine anno poi vinceranno sarà un podio primo secondo terzo quindi insomma potete inserire il sottostante che secondo voi si apprezzerà di più oppure perderà perderà più terreno e se vincerete insomma verrete premiati alla fine dell'anno detto ciò però io ho puntato su maraton ma no solo perché è una challenge e voglio vincere ma allora innanzitutto ricordiamo che io ce l'ho in portafoglio è un titolo in cui ho creduto sin da in 9 doll 8 dollari e 90 è salito molto nell'ultimo periodo e volevo anche oggi spiegare un attimo il perché e come potrebbe e come potrebbe comportarsi quest'anno allora sicuramente a livello grafico non è messo bene io long da qui direi attenzione perché perché guardate qui che picco di volumi 12 milioni di azioni guardate quando ci sono state un picco di 12 di 12 milioni di scambi mai praticamente quindi decisamente un possibile cambio di tendenza però la mia view è annuale quindi da qui alla fine dell'anno secondo me potrà continuare ad apprezzarsi nel breve termine invece io direi di fare molta attenzione a comprarlo quindi se mi chiedi antonio compriamo maraton io ti dico attenzione a comprarla adesso perché perché siamo di fronte a comunque delle prese di beneficio oppure anche un'inversione di tendenza chi lo sa ma perché maraton si è apprezzato nell'ultimo periodo da 9 a 30 io tra l'altro un po l'ho comprato 8 e 90 e l'ho venduta successivamente a 27 ora sono ancora in posizione in realtà ma ha senso comprarla adesso nel breve termine direi di no perché dobbiamo almeno attendere un segnale long che al momento non c'è ok quindi io l'ho usata per la challenge che però è un'altra cosa dalla vita e i soldi reali ricordiamocelo però ricordiamoci che questo titolo è salito tanto per quale motivo ricordiamo che maraton è una delle aziende che minano bitcoin e criptovalute maraton nello specifico solamente bitcoin solamente bitcoin e si è apprezzata notevolmente nell'ultimo periodo per alcuni motivi uno maraton è a nel mese di dicembre minato 1853 bitcoin più del doppio rispetto a tutti gli altri competitor anche nel mese di novembre hanno fatto meglio di tutti gli altri e un'altra cosa e quindi chiaramente con un apprezzamento del prezzo della criptovaluta per eccellenza è chiaro che c'è un apprezzamento dell'azione del del titolo anche perché non tutti ovviamente perché per sostenersi qualche bitcoin dovranno comunque venderlo ma fanno si tengono in pancia molti bitcoin e quindi poi il prezzo di bitcoin fa muovere anche il titolo stesso chiaramente ma uno degli altri motivi è che stanno ampliando stanno aprendo altre altre farmhouse quindi continuano a minare sempre più bitcoin e diversificandosi su ben 8 degli stati 8 stati negli usa e piano piano vanno a quindi migliorare anche l'infrastruttura sottostante e quindi diciamo che si stanno sviluppando abbastanza bene quindi nel lungo termine secondo me se siete long sulle criptovalute e su bitcoin questo può essere un titolo interessante nel breve termine invece occhio perché il prezzo parla chiaro qui si potrebbe scendere ancora si potrebbe scendere ancora però volevo anche far notare dove siamo arrivati perché siamo su un supporto importante eccoci qui a 18 e 8 secondo me questo supporto verrà rotto guarda non ci sono mai stati così tanti volumi nelle ultime settimane su questo titolo quindi attenzione non è tuttora quello che luccica noi dobbiamo analizzare bene le cose infatti ragazzi fin quando i prezzi non rompono i 30 allora se i prezzi rompono i 30 dollari per azione probabilmente vincola vincola challenge se no se no no se no no però pietro attenzione a questo titolo mettiamolo in watchlist che non ce l'abbiamo già in watchlist si ce l'abbiamo già in watchlist perché quando ci sarà un bel segnale long allora entraremmo in posizione ma non dobbiamo avere fretta secondo me non dobbiamo avere fretta perché al momento la pre section dice short non dice long assolutamente sì 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 in watchlist quindi come dicevi tu poi dopo quella importante salita credo che ci sta una fase di correzione i volumi sono stati importanti poi quando proprio c'è questa forte decisa fase correttiva è possibile che questa continui ancora per qualche giornata sicuramente come analisi tecnica ci insegna anche se poi qui siamo su dei titoli abbastanza volatili aspetteremo delle un'eventuale base e da lì capiremo grazie poi alcuni indicatori se è il caso o meno di rientrare però è in watchlist perché io penso come e tu stesso ieri sera dicevi che marathon dopo quello che è da parte e della secca dell'etf sul bitcoin e poi si aspettano anche altri ok da parte della secca per altri per altri strumenti sempre legati alle criptovalute questi titoli sicuramente potrebbero apprezzarsi e poi possiamo anche dirlo questo potrebbe anche essere la fase che stiamo vivendo il classico sello news ovvio ossia un mercato un'azione uno strumento che è salito nelle attese appunto di una risposta positiva da parte della secca e ora ci sono le classiche prese di beneficio una volta esaurite credo che poi si andrà anche a rompere quella soglia dei 30 dollari tu farai gli scongiuri ma credo che quella sarà sicuramente una soglia abbattuta dal mercato staremo a vedere staremo a vedere nel frattempo però nelle ultime settimane giusto per concludere questo capitolo e poi faccio una bella sfilza di altri titoli volevo ricordare che i detentori principali adesso l'immagine non ce l'ho qui ma sono vanguard group 8,32 per cento black rock 5,64 state street 2,33 poi c'è anche marcastale con 3,14 abbiamo sigolding con 3,27 insomma diciamo che questi sono i detentori principali di questo di questa azienda che nel corso del tempo ho suonato proprio vedere gli storici di bloomberg hanno piano piano aumentato le loro quote devo dire però che nell'ultimo trimestre non hanno più toccato niente probabilmente queste prese di beneficio sono state fatte anche da loro ma questo lo capiremo poi insomma lo capiremo nel tempo detto ciò dopo aver visto il titolo maraton che è aperto in questo momento visto che sono le 15 e 30 probabilmente negativo meno un meno 237 18 e 53 si va bene comunque dopo questa apertura direi che possiamo andare a vedere un altro titolo cosa vediamo io direi perché più volte lo abbiamo nominato nelle nostre puntate nelle ultime due puntate e il titolo tesla su cui noi siamo short da quasi 250 dollari ed eccoci qui l'abbiamo anticipato anche nei vari webinar sì sì me lo ricordo benissimo perché eravamo qui più volte l'abbiamo detto l'avevamo anticipato l'undici di ottobre se non sbaglio e poi abbiamo fatto un altro web no forse non dice troppo è troppo presto però mi pare intorno al 29 di novembre insomma siamo short da qui inizialmente poi i prezzi sono tornati a fare un nuovo massimo ma non hanno superato quello precedente e siamo a scorta dal 7 dicembre a 7 dicembre siamo short vabbè dai ottima ottima entrata bravo pietro si sta avvicinando il supporto a 200 ci arriva secondo te e secondo me il target è quello perché il movimento importante e se ti ricordi la candela e la candela ribassista era stata più volte anche in passato anticipatrice di un movimento importante al ribasso credo che il prossimo target ora siamo a 214 e 44 potrebbero potrebbe essere l'aria dei 207 208 dollari e sotto si tornerebbe ai 195 dollari che sono i minimi che abbiamo visto nel mese di novembre quindi ricordiamoci i problemi che ha tesla ricordiamoci lo stop alla chiusura dello stabilimento di berlino nelle prossime settimane per due settimane i problemi per quanto riguarda la previsionamento per quanto riguarda poi la costruzione di delle delle automobili delle sue e auto e per la mancanza appunto di componenti con la chiusura del canale di suo e quindi che fa in modo che queste navi debbono impiegare tra le due e tra le quattro e quattordici a venti giorni per arrivare poi destinazioni quindi è un titolo che soffre anche per questo motivo ed è l'unica casa automobilistica che ha segnalato appunto questi problemi sicuramente altre case automobilistiche lo vanno ma non l'hanno non hanno detto però tesla lo ha comunicato e quindi questo sicuramente non fa bene a titolo naturalmente noi abbassiamo gli stop profit e cercheremo appunto di continuare a cavalcare questo questo trend ripazzista guarda come sta scendendo ma che bello è 213 in questo momento dollari per azione molto bene bravo pietro direi che sta iniziando alla grande quest'anno e tra l'altro ragazzi ricordo a tutti che se non seguite pietro e la sua operatività beh nella sezione dei servizi trovate pit trading io vi consiglio di fare un bel abbonamento annuale così ricevete anche il corso in omaggio completo per imparare a fare trading come lui e dai che così chiudiamo un bel gennaio positivo a wall street e anche in italia tra l'altro ragazzi ricordo che ogni giorno noi mandiamo aggiornamenti commento sull'apertura delle quotazioni mail a metà giornata video commento della giornata bossistica segnali operativi sia via mail sia sia su telegram perché c'è chi preferisce la mail c'è performance con tutte le operazioni che volete di più di così quindi direi che dobbiamo battere il 2023 anche se non sarà facile perché è uno dei migliori anni che abbiamo fatto che hai fatto detto ciò torniamo quindi a parlare ecco qui chiudiamo con chiudiamo con tesla e andiamo a parlare di un titolo di cui abbiamo parlato anche ieri sera pietro e cioè il titolo neo perché qui me lo stanno chiedendo tutti e noi dobbiamo andare a vedere il titolo neo perché a tuo avviso il titolo neo potrebbe essere un titolo il titolo del 2024 o comunque uno dei titoli che può apprezzarsi molto nel 2024 tenendo presente che in questo momento il trend di breve è è ribassista abbiamo anche segnato un nuovo minimo di periodo tra l'altro oggi apertura meno 6,24 per cento ora meno 5,75 6,76 situazione situazione non è bella perché sta andando a rompere degli importanti supporti che sono la soglia dei 7 dollari quindi in mancanza di recupero di questi livelli sicuramente esapirebbero ulteriori strade al ribasso e la situazione sulla sulla sulle auto elettriche lo vedevamo con tesla è abbastanza difficile i componenti e tutto quello che c'è dietro sicuramente potrebbe potrebbe avere un impatto sul sul settore vediamo se anche il titolo neo riesce a fermare quella fase correttiva che ricordiamocelo è partita dal 29 di dicembre quando i prezzi erano in aria 9,50 quindi e quindi vediamo se questa fase correttiva anche perché l'indicatore del RSA è arrivato in aria di forte eccesso che potrebbe appunto anticipare un rimbalzo delle quotazioni che potrebbe essere anche un rimbalzo importante vediamo la candela che si va a formare oggi sicuramente gli investimenti fatti da fondi strategici anche arabi potrebbero essere da questo punto di vista importanti sul sul titolo e quindi vediamo vediamo perché credo che questo il 2000 e 2024 potrebbe essere l'anno di mio l'anno di libian quindi di titoli legati appunto al settore elettrico come la stessa libiana però ora abbiamo bisogno che questa fase correttiva appunto ci arresti termini esatto antonio mi chiede coinbase come marathon stiamo parlando di due aziende completamente diverse perché coinbase non fa nel senso maraton si dedica esclusivamente a minare bitcoin mentre coinbase è una piattaforma dove insomma si vanno a custodire di bitcoin tra l'altro piattaforma dove si appoggia dove si appoggia la maggior parte degli hedge fund a cui sono stati approvati gli etf quindi questo sicuramente qualora i volumi dovessero essere veramente istituzionali all'interno di questi hedge fund in quel caso chiaramente coinbase ne beneficerebbe in questo momento però stiamo comunque assistendo a una bella fase di ritracciamento che potrebbe attenzione essere una buona occasione di acquisto perché abbiamo raggiunto addirittura i 190 dollari per azione siamo come potete vedere usciti dal trend laterale abbiamo segnato massimi e minimi crescenti anche in maniera abbastanza lineare è chiaro che su questi storni c'è la volatilità è abbastanza alta secondo me il prossimo supporto lo troviamo a 100 a 115 dollari per azione mettiamo in watch list assolutamente sì 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 115 114 sarebbe il prossimo il prossimo livello supportivo il prossimo sostegno che poi sono gli ex massimi che abbiamo visto nel mese di luglio si ci sta ci sta anche come come idea operativa anche qui volumi e la discesa sono stati veramente importanti e quindi evitiamo di andare a prendere un coltello che cade e aspettiamo appunto i prossimi livelli benissimo cosa andiamo a vedere per concludere il webinar di oggi concludere lo stai che io andrei a guardare e anche perché non so quello che in questo momento sta facendo però nordic american tankers perché siamo andiamo a vedere nordic american tanker 4,54 80 ed è a contatto con delle importanti aree resistenziali perché la nominiamo non abbiamo con se non siamo neanche in conflitto di i problemi legati al canale di Suez stanno aumentando a dismisura il costo dei noli il costo dei viaggi e quindi qui siamo in una società che opera appunto in questo settore quello dei noli lo shipping e quindi è possibile che nel caso in cui questi problemi legati appunto al canale di Suez dovessero proseguire è possibile che l'azione si possa avvantaggiare ed è la stessa cosa che sta facendo sul nostro mercato italiano D'Amico con anche qui il settore appunto dello shipping con un titolo che sta andando incontro ad un importante aree un importante recupero che potrebbe appunto spingere i prezzi sui top decennali eccolo qui quindi sono due titoli che in caso di correzione potrebbero essere delle importanti buy opportunity perché i prezzi non è che stanno raddoppiando in alcuni in alcuni caso in alcuni casi triplicando e questi questi prezzi poi si confronteranno poi quando ci sarà la trimestrale che saranno dati sicuramente importanti quelli che arriveranno da questa azienda e quindi settore shipping sotto osservazione e quindi noi abbiamo avuto due titoli non ci sono solamente questi sul mercato americano ci sono altri titoli però sono i titoli più scambiati col tipo nordic american tanker sono i titoli più scambiati a e c'è anche scorpion se non sbaglio e quindi titoli abbastanza speculativi e quindi massima attenzione bene pietro direi che per oggi noi abbiamo visto abbiamo visto tutto tutte le altre domande poi per esempio alibaba piuttosto che nio e insomma asml magari li vedrà questa sera pietro nella video analisi assolutamente a tutti gli abbonati e però per oggi quindi direi che è tutto noi ci rivediamo come sempre martedì prossimo per chi vuole partecipare a questo webinar oppure ci sentiamo tutto il giorno tutti i giorni all'interno del gruppo pit trading grazie mille pietro per aver partecipato a teric buon proseguimento a tutti buon trading e a martedì prossimo buon trading a tutti